Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver esordito negli anni 80 in reti minori, è divenuta nota al pubblico passando il RAI e conducendo negli anni 90 diversi programmi sportivi, dopo una breve esperienza in Mediaset, dal 2 ottobre 2000 al 1 giugno 2018, eccetto il periodo compreso tra dicembre 2008 e maggio 2010, ha condotto la prova del cuoco, trasmissione di RAI 1 che l'ha lanciata come conduttrice di punta dell'emittente, per la quale ha anche condotto numerose trasmissioni di prima serata, come il ristorante. Come raccontato dalla stessa conduttrice nel corso dell'intervista al TG1, è sempre mezzogiorno, tornerà lunedì 11 settembre, per fare compagnia ai telespettatori nell'orario di pranzo e scoprire nuove ricette da poter replicare a casa propria. Lunedì si riparte. Sono molto felice, perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone, ha detto Antonella mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità. Ma la lunga intervista è stata un momento speciale anche per ripercorrere la lunga carriera della conduttrice, che la vista condurre anche il Festival di Sanremo nel 2010. Un'edizione tutto tranne che semplice per la Clerici che, come forse molti ricorderanno, dovette placare l'ira dell'orchestra, mentre lanciava gli spartiti in aria per l'esclusione dalla Kermess di alcuni artisti. Un Sanremo rimasto nella storia. Ho condotto da sola, veramente da sola. Io non avevo neanche un partner perché nessuno ci credeva. Ero veramente da sola su quel palco, e allora ho pensato di mettere in scena me stessa, ha detto Antonella a proposito. Ma la sua carriera è stata segnata anche da tantissimi altri successi, spesso condivisi con altri amici e colleghi. Primo su tutti il compianto Fabrizio Frizzi.